Salam! Salam Alec! Salam Alec! Salam Alec! Salam Alec! Salam Alec! Ma... No... Una cosa la dici... Parle... Parle col microfono Ah! Ma cosa fai? Cos'è lo spazio? Ma... Aspetta che andiamo vicino Oh! Immaginate però! Quando sei bella, molto bella in primo piano Ah! Ma... Ma... Com'è che si chiama quella cosa? C'era, c'era... Quella che mi ha mandato Alec, com'è che si chiama? Alec Quello del film... Dona! Com'è che si chiama? Non c'era la mamma... Non c'era un film... Un bulgar... Lungares... Ah! Come si chiama? Ivano! No, no, no! Non so io... Ivaio! 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 Pude! non riesco a perdere, non riesco a perdere portami una trea amici per la trea lanci al piede lanci al piede lanci al piede un frate pure il frate ma... che cosa? dico una puttana se tu una puttana ma c'era un pezzo non fiume facciamo un po' là dino il piccolo ma come vabbè fa' là d'impass notre peau ma vuoi dire il non c'est autre no no non 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 si non 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 io non è capuuu uuuu oh mamma come vuoi stasera? oh mamma ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh tu sei morto? 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 ma fai ma come 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 io pu te la pho fac last perchè? ho chiuso proprio sempre vabbè tu raccilla Il nome della musica è Padre, Figlio, Spirito Santo, Pace e Bene, che ti porti bene i mortaggi tu, Pace e Bene, Pace e Bene, 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 stop.